Benvenuto nel mio canale, oggi impariamo a calcolare la distanza di un fulmine, o di un temporale, dalla nostra posizione, con un esempio pratico, un vero fulmine da me ripreso. In un minuto capirai questa operazione che ti potrà sempre servire. La luce ed il suono hanno due velocità diverse, la luce viaggia a circa 300.000 km al secondo, il suono invece a circa 340 metri al secondo, per questo motivo i secondi che passano tra luce e suono vanno divisi per tre, il risultato ottenuto ci farà capire a quanti chilometri di distanza, da noi, si è caduto il fulmine. Ora drizza bene la vista e le orecchie, lo calcoliamo insieme con questo fulmine reale da me ripreso pochi giorni fa. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, abbiamo contato 9 secondi, diviso 3, fa 3. Questo significa che il fulmine si trovava a circa 3 chilometri da me. Grazie per avere seguito il video. Se ti è piaciuto non dimenticarti di mettere like, condividere ed iscriverti al canale. Al prossimo video con Vic, il cacciatore di fulmini.